No, io non me la sento, ho ancora qualche forma di condizionamento che mi impedisce di togliermi i pantaloni No, io non me la sento, ho ancora qualche forma di condizionamento che mi impedisce di togliermi i pantaloni Appena detto adesso che ha freddo, anche se oggi è una giornata abbastanza mite, per andare in mutande sicuramente Non capisco perché però, ognuno è libero di programmare e fare quello che più desidera Perchè andate in giro in mutande? Caldo Caldo, vabbè anche o caldo, mica vado in giro nudo Beh, vita, vita mia! Oggi pure, oggi più sull'ore, si tratta, oggi più amore, oggi più più non sarà il prezzo.